Piazza San Prospero, centro storico. Siamo qui per raccontarvi di un ritrovamento molto importante dei mosaici che sono stati scoperti durante gli scavi di rifacimento delle reti sottostanti alla pavimentazione di questa piazza storica della città. I cittadini avranno la possibilità nella giornata di lunedì di sbirciare, di poter buttare l'occhio al di là di quello che è il cantiere per poter appunto vedere che cosa è stato ritrovato e la scoperta particolare di cui questa piazza ci ha raccontato. Nell'area prospicente Il Sagrato della Chiesa è stata reinvenuta un'area di sepolcri. Queste tombe erano strutturate alla cappuccina con mattoni di riempiego di epoca romana. Alcune erano già state manomesse, perciò dovuta a un'azione probabilmente proseguita nel tempo di apertura e richiusura per andare a deporre nuovi immati. Le tombe, quasi tutte, sono state utilizzate soprattutto come ossari, perciò nella tomba più grande che abbiamo aperto all'incirca erano inumati una decina di individui. Soltanto i trepi superficiali erano ancora composti nel loro ultimo stato di deposizione. Dopodiché la tomba era stata chiusa con questo tetto appunto detto alla cappuccina utilizzando i mattoni spogliati molto probabilmente dagli strati inferiori dove si trovava questo edificio che ancora non sappiamo se è un edificio privato o pubblico. Il mosaico stesso è stato tagliato da queste grandissime fosse di spogliazione in un'epoca che ancora non siamo riusciti ad identificare ma potrebbe essere tra il Tardo Antico e l'Alto Medioevo che avevano proprio lo scopo di andare a riutilizzare materiale edile che probabilmente nel periodo era carente. dove questi tagli di spogliazione non hanno disturbato gli strati inferiori abbiamo rinvenuto questo tappeto musivo ricoperto proprio dallo strato di abbandono caratterizzata da un livello di bruciato molto consistente forse dovuto a un incendio in cui erano crollate già parte dell'edificio perciò abbiamo rinvenuto pezzi di legno in tonaco dipinto proveniente dai muri e un particolare interessante è stato rinvenuto un disco di bronzo di circa 22 cm di diametro probabilmente appartenente a una qualche suppellettile abbandonata nel corso del momento insomma di abbandono di tutto l'edificio. In occasione dei lavori di rifacimento della piazza in cui ci troviamo, piazza San Prospero la soprintendenza ha concordato già da tempo di fare alcune verifiche approfittare di questi lavori per fare alcune verifiche della stratigrafia cioè degli strati sottostanti per vedere o per vedere di trovare insomma dei dati di ricostruire dei dati del passato di questa città e devo dire che i risultati sono stati molto interessanti abbiamo aperto dei sondaggi più o meno agli angoli della piazza seguendo i lavori di Ireti e abbiamo rinvenuto strati di epoca medievale che sono stati campionati che sono in corso di studio da parte dell'università abbiamo rinvenuto come noto diverse sepolture in cassa costituita da laterizi romani come anche in fossa nuda e nuda terra alcuni anche con dei particolari diciamo antropologici interessanti che anche quelli saranno in corso di studio e poi diciamo il ritrovamento principale è chiaramente questo mosaico questo bellissimo mosaico di epoca romana di primo impero fra il primo avanti e il primo dopo Cristo che sicuramente per via diciamo di alcuni dati e reperti che abbiamo trovato faceva parte o di un edificio pubblico o di una grande domus compatibilmente con la sicurezza ci stiamo allargando per capire le effettive dimensioni di questo pavimento che al momento misura su quattro metri per oltre cinque il mosaico una volta che avremo terminato le ultime verifiche potrà essere eventualmente reso visibile in futuro se appunto il comune vorrà accogliere questa ipotesi ma per il momento la protezione principale che si può garantire e lasciarlo esattamente dov'è coperto da un telo e da terreno pulito come si fa di consueto e riseppellirlo per eventuali indagini future e per continuare diciamo a fornire nuovi dati per ricostruire la storia di questa città che stiamo saggiando in vari cantieri in corso grazie 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 grazie